Buon pomeriggio cari amici e bentornati sul mio canale. Nell'attesa che ricominci il campionato di Serie B che vedrà il Chievo posto al Crotone in un importantissimo scontro diretto per le prime posizioni della classifica, impazzano le news di calciomercato e nella giornata di oggi certamente per il Chievo è arrivata una notizia molto importante e molto positiva, ovvero il riscatto del cartellino di Adrian Semper, portiere croato classe 1998. Il club di Campedelli ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto appunto del cartellino del giocatore versando 1,5 milioni di euro nelle casse della Dinamo Zagabria, ovvero il club che deteneva la proprietà appunto del cartellino di Semper e dal quale il Chievo lo ha prelevato nell'estate 2018. Una scelta direi decisamente condivisibile perché comunque Semper è un portiere di prospettiva, è un portiere con ampi margini di miglioramento e un portiere che ha dimostrato soprattutto nella seconda parte di stagione di essere decisamente affidabile, quindi un profilo su cui puntare per il presente e per il futuro sempre che nel futuro di Semper ci sia ancora il Chievo, come vi andrò a spiegare nel corso della mia analisi su questa decisione da parte dei Giallo-Blu. Semper è arrivato al Chievo, come dicevo, nell'estate del 2018 dalla Dinamo Zagabria, un portiere di cui si diceva un gran bene che il presidente Campedelli ha scelto come alternativa al titolare e inarrivabile Stefano Sorrentino. Infatti nella prima stagione di Semper in Italia le presenze saranno decisamente poche in quanto il giovane croato sarà chiuso da Sorrentino al quale è praticamente impossibile rubare il posto. L'esordio di Semper con la casacca calipense ci sarà il 5 dicembre 2018 in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari persa dai veronesi per 2 a 1, mentre per l'esordio in campionato Semper dovrà aspettare ancora un po'. A sei giornate dalla fine, con il Chievo già matematicamente retrocesso, il tecnico Di Carlo decide di accantonare certi senatori della squadra, non come una sorta di punizione, ma per dare spazio anche ai giovani nelle ultime giornate appunto. E tra i giovani presi in considerazione da Di Carlo c'è proprio Semper che nelle ultime sei giornate mostra qualità interessanti e personalità da vendere, soprattutto in due sfide contro altrettante grandi squadre, ovvero la Lazio e l'Inter. Contro la Lazio il Chievo vincerà 2 a 1, contro l'Inter invece rimedia una sconfitta per 2 a 0. Un portiere che quindi fa capire alla società di essere il profilo giusto su cui puntare anche per la stagione successiva. Infatti, nel momento in cui i dirigenti Clivensi devono allestire la squadra per un pronto ritorno in massima serie, puntano con forza sul giovane Semper tra i pali, affiancandogli come alternativa il più esperto Michele Nardi, reduce da una serie di stagioni nelle serie minori e quindi più avvezzo a quel tipo di categoria e in grado di fare da chioccia al giovane e promettente Semper. Il portiere croato viene schierato a titolare fin dalla prima giornata dal nuovo tecnico clivense Michele Marcolini e nella prima parte di stagione Semper sicuramente disputa delle buone partite, però in generale non dà la sensazione di grande sicurezza, non solo tra i pali ma anche nelle uscite alte e più in generale nel modo in cui dovrebbe comandare il reparto arretrato. Infatti, direi sostanzialmente, nelle prime 16 giornate giocate dal Chievo in serie B sono più le prestazioni negative rispetto a quelle positive da parte di Semper, una su tutte la clamorosa sconfitta interna del Chievo per 3-2 contro la Juve Stabia nonostante il doppio vantaggio a fine primo tempo, un KO sul quale pesano gli errori proprio di Semper e dopo un risultato del genere, una prestazione del genere, il tecnico Marcolini, come dichiara peraltro in conferenza stampa, decide di accantonare momentaneamente Semper, ma non come una sorta di punizione, ma affinché lui magari durante gli allenamenti possa ritrovare la serenità giusta per poi tornare a incidere sulle sorti Clivensi da titolare. Nelle tre partite successive gioca Michele Nardi e con l'inizio del nuovo anno Semper torna a difendere i pali della porta Clivense, un ritorno che migliore non potrebbe essere perché si presenta al pubblico Clivense, ai compagni e alla società, tutto un altro portiere, un portiere molto più grintoso, molto più sicuro di sé, molto più capace di fare la differenza in quelli che sono i fondamentali del portiere, come il saper stare tra i pali o le uscite alte o, come dicevo prima, la capacità di comandare con grande personalità il reparto difensivo. Credo che i numeri testimonino alla perfezione il cambio di rendimento da parte di Semper. Pensate che nelle ultime nove giornate con Semper tra i pali della porta Clivense, il Chievo ha subito appena cinque gol e Semper ha mantenuto la porta inviolata in quattro circostanze, esattamente le stesse che aveva collezionato nelle prime sedici partite in cui era stato titolare, quindi numeri decisamente più importanti e nelle prime sedici giornate in cui aveva giocato aveva incassato ben diciannove gol, quindi evidentemente una maggiore capacità di mantenere la porta inviolata e quindi di portare punti importanti per la causa Clivense. Un portiere che quindi con le sue prestazioni convince il Chievo a puntare ancora su di lui, a versare nelle casse della Dinamo Zagabria 1,5 milioni di euro e a far sì che il Chievo offra un contratto importante fino al 2024 che Semper ovviamente decide di accettare e di firmare. Perché all'inizio della mia analisi dicevo che non è detto che in futuro ci sia il Chievo nella carriera di Semper? Perché qualche settimana fa, ovvero qualche settimana prima che questo acquisto diventasse ufficiale, il procuratore di Semper ha dichiarato che il suo assistito non rimarrà al Chievo in caso di mancata promozione Serie A e ha parlato di interessamenti importanti per il giovane portiere croato da parte di due club di Bundesliga e uno di Premier. È chiaro che le dichiarazioni di un procuratore vanno sempre prese con la tara, ovviamente nel momento in cui le fa, fa il suo gioco e il gioco del suo assistito, però è altrettanto vero che nel caso in cui Semper dovesse continuare a fornire prestazioni importanti ma il Chievo non dovesse conquistare la promozione Serie A, probabilmente sarebbe difficile per i gialloblu trattenere il loro giovane e promettente portiere. Io credo che per la discontinuità mostrata da Semper in questa stagione, perché non va dimenticata la prima parte di stagione con più ombre che luci, secondo me un'altra stagione in Serie B non gli farebbe così male, soprattutto se il Chievo dovesse allestire una squadra ancora più competitiva rispetto a quella di quest'anno e quindi con ancora più l'obiettivo e la determinazione nel cercare la promozione Serie A. Vedremo quali saranno i pensieri del ragazzo, quali saranno i pensieri del procuratore e soprattutto se effettivamente tra qualche mese dovremo fare questi discorsi in caso di mancata promozione del Chievo. Bene, vi ho fatto un'analisi su questa importante notizia di mercato per quanto riguarda il Chievo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se pensate che questa spesa sia stata giusta o meno da parte del Chievo, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale e ci vediamo domani con un'altra puntata del viaggio all'interno delle 17 stagioni di Serie A disputate dal Chievo.